ognuno sceglie batteristi che vuole io ho scelto lui sto spiegando è più lenta effettivamente più lenta ho scelto lui i batteristi quelli perfetti sono belli e bravi io ho scelto lui perché è bello sembra un'evidenza infatti è anche bravo è anche bravo è anche bravo è più lenta grazie a tutti grazie a tutti